La riorganizzazione della sanità privata convenzionata, una delle strategie indicate dal governatore De Luca per uscire dal commissariamento, stipulati i contratti biennali con gli operatori del settore. Diego Dionoro. Verifica e revisione del fabbisogno alla base del criterio adottato dalla Regione per la regolamentazione dei rapporti con la sanità privata convenzionata. I nuovi contratti con Valenza Biennale 2018-2019 dovrebbero mettere ordine in una buona fetta del settore che copre circa il 30% della sanità campana. Case di cura, specialistica ambulatoriale, riabilitazione, le macro aree per le quali la Giunta regionale ha stanziato nel complesso 50 milioni in più rispetto allo scorso anno. Non tetti massimi di copertura previsti in maniera universale, ma tagliati su misura anche con criteri di premialità. Daremo incentivi alle cliniche private in relazione agli obiettivi, chi riduce il numero di parti cesarei, chi riduce i tempi per le operazioni di fratture al femore, per rientrare nell'obiettivo generale di riduzione delle liste di attesa. Uno strumento anche per evitare futuri contenziosi. Chi firma oggi i contratti biennali si impegna a non aprire contenziosi con la Regione Campania. Veniamo da decenni nei quali intorno alla sanità campana è cresciuta un'intera economia speculativa. Studi legali, ricorsi, contro ricorsi, cessione di crediti a società speculative che aggredivano la Regione. Un mondo equivoco che intendiamo cancellare completamente dalla sanità campana.